Lasciare un'impronta nel ghiaccio è possibile, la impronta delle mie dita, ma tra pochissimo svanirà. Il nostro corpo è il simbolo dell'evanescenza, dell'impermanenza di tutte le cose. E questa evanescenza è una delle cose più preziose che noi abbiamo. Non dobbiamo averne paura. Avere paura di ciò che siamo, della nostra evanescenza. Dobbiamo avere il coraggio di essere noi stessi fino in fondo, perché nella nostra evanescenza ci sono idee, ispirazioni, energie. Se siamo noi stessi fino in fondo, siamo potentissimi. E l'unico ostacolo ad essere ciò che siamo è la paura. Ci sono tante idee, ispirazioni, energie. Dobbiamo essere noi stessi, avere il coraggio di essere ciò che siamo. E amareci così come siamo. Grazie. 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 Grazie.